Si è ribaltata in poche ore la situazione nella città di Agropoli riguardo le scelte di tenere aperto o chiuso l'istituto scolastico Alfonso Gatto. Ieri presso la casa comunale si è tenuta una riunione dove i rappresentanti di istituto, alcuni studenti, la dirigente scolastica hanno incontrato il sindaco Coppola e un dottore dell'ASL per chiedere, vista la positività di una docente, la possibilità di tener chiuso l'istituto fino all'esito dei tamponi molecolari effettuati sui contatti stretti, ma la richiesta non è stata accolta perché il sindaco ha spiegato che deve attenersi ai dati scientifici che riguardano i contagi forniti dall'ASL di Salerno. Poche ore però sono bastate per far capovolgere la situazione, infatti un nuovo caso di positività presso il liceo Gatto tra gli studenti ha portato il sindaco a chiudere l'istituto in via precauzionale. La persona in questione spiega il primo cittadino per un discorso di turnazione non risulta essere stata a scuola da venerdì scorso, ma al fine di agevolare la ricostruzione dei contatti da parte dell'ASL e in accordo con la dirigente scolastica Anna Vassallo, che ha manifestato difficoltà nel garantire la didattica in presenza, considerato che alcuni docenti sono stati posti in quarantena, ho disposto alla sospensione delle attività didattiche fino a sabato 13 febbraio. Qualche ora prima della notizia della positività della studentessa del Gatto, altri otto nuovi casi positivi al virus erano stati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno, casi collegati con precedenti catene di contatti non riferiti all'ambiente scolastico. Per quanto riguarda i contagi nell'ambito scolastico, attualmente nella città di Agropoli sono risultate positive una docente e una studente del liceo Gatto, una studente dell'istituto comprensivo Gino Rossivairo e una studente della scuola elementare Gino Landolfi.